Il cordoglio del sindaco metropolitano per il tragico episodio che ha occorso a un operaio mentre riparava un ascensore all'interno di un palazzo di Locri. L'intera comunità regina piange alla scomparsa di Fabrizio Nicolò, l'operaio morto mentre lavorava alla riparazione di un ascensore all'interno di un condominio. Come quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, l'ennesima tragedia, l'ennesima ingiustizia, l'ennesima morte bianca, ha aggiunto il sindaco, l'ennesima di un lunghissimo elenco di persone scomparse, mentre operavano onestamente per la propria professione. È assurdo che ancora oggi chi lavora debba trovarsi a rischiare la vita. Al di là dei necessari accertamenti che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto, ha detto ancora Falcomatà, la scomparsa di Fabrizio Nicolò impone ancora una volta una severa riflessione sul tema della sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli incidenti che ogni anno in Italia provocano la morte di centinaia di persone. Siamo sconcertati da quanto è accaduto, ha concluso il sindaco alla famiglia di Fabrizio Nicolò, giunga la vicinanza della comunità regina, nella speranza che la sua tragica scomparsa serva da monito nei confronti della politica e delle istituzioni nazionali, affinché sia posta con urgenza e in maniera definitiva la questione della sicurezza dei lavoratori in tutti i contesti.